Mocchino presenta quel pignolo di Mike Buongiorno. E gli erogatori? Gli erogatori sono a busto. Il decompressimetro è stato tarato? Decompressimetro tarato. Sicuro, eh? C'è di mezzo alla vita. Allora, vediamo se ho capito. Mi tieni il casco? Quando si scende in velocità, questa posizione, così. Quando devo frenare, tutto indietro. Sì. Allargo le gambe. Le braccia così o così? No, così, così. Bene. Ecco, poi per curvare, se curvo a destra, spingo così, tiro sulla gamba. Bene. Se curvo di là, così. Va bene. Va bene, allora andiamo a vedere se ce la faccio. Proviamo. La grappa bocchino la trovi sempre più in alto. Concludendo. 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 Grappa bocchino.